Scende sempre più la curva dei contagi. Nelle ultime 24 ore si registrano soltanto 81 pazienti positivi, tutti in isolamento domiciliare. Sono i dati afferenti a domenica. 28 pazienti sono di Gela, 18 sono di Caltanissetta, 13 di Niscemi, 7 di San Cataldo e gli altri suddivisi per i vari paesi della provincia. Intanto si conta ancora un decesso. È un paziente di Riesi. Per ciò che riguarda i ricoveri, un aumento leggero, una sola unità. Sono 39 i positivi ricoverati in malattie infettive, mentre sono 2.389 i positivi in quarantena domiciliare. Sono 540 i positivi a Caltanissetta in quarantena domiciliare, 9 sono i ricoverati, mentre per ciò che riguarda Gela sono 636 i positivi in quarantena domiciliare. Sono 8 i positivi ricoverati in malattie infettive. C'è un paese che non ha positivi in quarantena domiciliare e Villalba c'è un solo ricoverato. Dei 39 ricoverati nel reparto di malattie infettive, 5 provengono da fuori provincia.